Bella a tutti, sono Bruno della Family e oggi iniziamo come avrete potuto leggere dal titolo il gameplay di Transformers Devastation, questo fantastico gioco di cui non ho mai sentito parlare che però è per qualche motivo gratis sul PlayStation Store se avete ovviamente il PlayStation Plus siccome è il gioco del mese, assieme a... Cazzo chiama? E non ho mai sentito parlare di questo gioco però siccome in Sony Transformers sembra divertente e quindi cominciamo a giocare. Storia. Guerriero, mettiamo come difficoltà, adesso vediamo il primo caricamento, fantastico. Non ho la minima idea di che cosa aspettarmi, potrei avere molta paura. Posso già notare la grafica accelsa, la teletexture, capisco che siano in 2D o in 3D, calazzi, copia e incolla, uccelli, nuvole disegnate e un'esplosione disegnata. Un bra... 2 e braccia. Sì, sono molto confuso. Che cazzo è? Ok. Ok, una faccia. Oh, questo qua sembra già più... Ma hanno i contorni... Mmm... Insecticons! Insecticons! Vi volevate anche realizzare il plasma? Sembra che lo sapessero? Vabbè, potete realizzare tutti i titoli. Eh, certo, ve l'avevo detto io. In realtà è l'oro. Ecco. Adesso vediamo... Com'è che si chiama pure lui? Boh. Oh, uno di questi giorni, Megatron. Giusto. Ah, e loro... E loro sono i Constructicons. Qui sono gli Insepticon. E loro dovrebbero essere i Decepticon, quindi... Non ci capisco più niente. No, dai, ti prego, non questi primi piani che... C'erano le ombre, le texture che... Boh, sollezze. Abbiamo un dinosauro che ci sta rincorrendo, ma mi sa che è il nostro alleato, adesso che guardo meglio. Bumblebee che è diventato una 500. Cioè... Vabbè. Una parola. Sì. Un dinosauro che scoletta. Eccolo qua, il fantastico titolo, Transformers. Devastation. Ah, c'è pure il simulac... Sì, il suono. Per la matrice. Sì. Sì, insomma. Siccome è chiaro, c'è anche arrivato da solo, attento a non farti colpire da... Un palazzo vuoto. Un palazzo vuoto, utilissimo, devo dire. Sì. Sì, te lo sai bene, ma gli altri sono morti. Ah, perché uno non partono dall'altro. Noi ovviamente, siccome siamo dei cosini minuscoli, noi non possiamo andare qua sopra, no? No. Dove sono andati i miei alleati? Non si sa perché lì dietro c'è un palazzo e non c'è più la strada come prima, ma va bene. Movimento e ruota visuale, ok. Con il salto, con il quadrato, faccio i colpi. No, vabbè, aspettate. No, vabbè. Sì! Ah, che bello. Sì, esatto. Che cos'è sta roba? No, non voglio saltare. Un uragano. Ma! Anche a me è tipo... Che... Va bene. E adesso... Non lo so, prendiamo... Posso sparare! Ok, perfetto. Solleviamo un'altra macchina. Lo posso fare? Vabbè, vado lento se ho le macchine in mano. Andiamo... Ci possono spaccare gli alberi, vabbè. Ok. Siamo arrivati qua. Ecco, arrivano i primi. Macchinine. No, tu risconfirmed. Saltano. Escono fuori le braccia. La testa. Tutti uguali. Che brutti. Fante. Sono già morto. E' in sca... Cosa vuol dire le traduzioni? E' in terminato. Non ho parole. Cos'è attacco veicolo? Quadrato, quadrato, quadrato. Ok. R1. Sì, l'ho fatto R1. Non vedi il lampo blu durante una compra? Prende ovviamente R1. Va a vedere come è il video. Oh mio Dio, stiamo scherzando. Ma non funziona. Quadrato, quadrato, triangolo, triangolo e macchinina. Quadrato, quadrato, triangolo, triang... Ma quadrato, 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 triangolo e macchinina. Come faccio a capire quando posso usarla macchinina? Sì. 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 E ora? Adesso arrivano anche gli aerei. Seeker. Perché la traduzione era troppo difficile. Mi avete ridato i colpi così per sapere. E' interminato, Mer. Posso fare col pinball? Oh, posso prendere le macchine. Ma... Boom. Ma lui è un mio alleato. Sembra di sì. Questo è mio. Attenzione cosa? Dai, mi hai stilato... Qua alleati i miei, che stilano i kill. Cosa vuol dire? D. Grado D. Perfetto. Dovrebbe essere buono, no? No, scherzo. Purtroppo non è buono. Ok, raccogliamo incubi di Energon, bla bla bla, bla bla bla, ma questi qua in realtà sono dei soldi. Posso... Sì, vabbè. Cos'è successo? Non si sa. Oh, funzionato. Cosa sei te? Cos'è? Cosa? Ah! Ah! Ti voglio! Cosa fai? Cosa vuol dire? Sono confuso. Allora, voglio andare qua. Te muori. Qua non ci posso andare. Ho capito, ma che cosa ci sta a dire? Ci posso saltare sopra e poi... sono ancora più confuso. Sono ancora più confuso. Cos'è? Dai, sì, non ci importano. Noi non leggiamo. Allora. Cosa? Non ci devo sparare. Non ci devo sparare. Non devo colpirlo. Posso fare il salto macchina? Ho fatto il salto macchina. Perfetto. Non ha funzionato. Va bene, va bene, va bene. Noi non ci facciamo domande. Va benissimo così. Bumblebee. Quanto sei brutto, Bumblebee. Ah, c'è abbiamo pure la minimappa che mi fa vedere la mappa e la giusta. Toll. Ok. Posso fare pure il doppio salto perché posso far così. Mentre normalmente... Ah, posso farlo anche normalmente, quindi prima non sono riuscito a saltare perché sono un coglione. Perfetto. Andiamo a vedere qua. C'è di nuovo uno di questi. Posso cercare, però. Colpisci questo converter delle spaziali? No, no, no. Alcuni converter delle spaziali sono attivi solo con un bel periodo. Va bene, ma che cosa ci faccio? Quindi, cioè, io faccio così, no? Ok, adesso c'è più senso. Posso sparare mentre sono in macchina? Non ce l'ho fatta. R1 posso scripare, rallentare il tempo e poi dopo diventare tipo, non lo so. Sì, ma che cos'è questo? Voi non me l'avete spiegato. Non mi avete spiegato che cos'è? Allora. Ah. Ah. Inventario 2. Raccogliamo. Non ci importa. Ah, ahia! Ah! Cattivo. Io torno. Ok, stavo scherzando. C'è soltanto un call. E mo? Cosa stai facendo? Ah, devo andare come macchina? Forse no. Ma è interminato. Dove sono delle munizioni? Ho schivato troppo presto. Ah, dovrei schivare. Ah, quindi dovrei andare qua a schivare per poi fare... Oh no, delle macchine. Oh no, delle macchine. Max! Eh, basta colpirmi. Forza! Attenzione, cosa? Ah, cattivo. Ah, cattivo. Giù. Non ci posso credere. Ahia. Ah, a me quanto è divertente questo gioco, poco. Colpiamo questo. Colpiamo questo. Non riesco ad arrivarci. Ecco, diciamo che il problema principale di questo gioco è che... Quanta roba posso fare? Posso premere L1? Posso premere L3 più R3? E questo non muore. Eh, aia. Forse avrei bisogno di vita. Ok. Missione 2 l'abbiamo completata con grado C. Stiamo facendo dei progressi. Tito, autoriparazioni non ci importa. Ma mi sa tanto di boss. Allora, io adesso non ho capito. Siamo... Devastator, cioè un nome più carino, no? Ah, ma è quello... È quello di... Il film... Tipo nel terzo film, poi... No, nel secondo film. Allora, il momento è caduto. Ah, aia. A meno che io non faccio così. Allora, partendo per il posto che sto morendo. Non ho ancora capito che cosa devo fare. Tu stai andando di là. Ma... Ma... Ma te non hai della vita! Ma sì che ce l'ho fatta. Ma io sto tipo volando, vabbè. Balla come. E poi tipo in teoria potrei fare questo. So che non so che cosa faccia. Cos'è? Cosa ho fatto? Gli ho tolto tanto, perfetto. E poi posso fare anche questo. Che fa un colpo devastante. Perché sei in ginocchio? Ma... Ma non fai niente! Grado C. Grado C, devo dire 120 punti. Tutti meritati. Sembra così tutto quanto a posto. Ti ho tolto tutta quanta la vita! Stronzo! Perché? Cosa? Non ho capito che ho fatto facendo. Cosa vuol dire... Cambia arma. Quale arma devo mettere? Perfetto cosa! Cosa? Cosa? Ok, i suoni delle armi sono fantastici, devo dire. Non dicevo a te Google, te tranquillo. Qua ho finito l'emmo. Blaster di Bumblebee. Non ho più emmo. Mitragliatrice. Era più facile del previsto. Buono, non capisco, sono i proiettili che vanno un po' a caso. Grado B, attenzione, stiamo facendo dei progressi. Sì, Lucio Dalla, certo, ho cercato Lucio Dalla. Proprio lui. Allora, adesso andiamo avanti in forma... In forma umana, perché umana è divertente. Ehm... Non possiamo glicciare. Sei fermo! Fermo! Che cosa ha creato? Ecco, adesso con lì come lo distruggo? Non così. Colpi pesanti? Così? Boh, bella. Abbiamo un inventario? Non così. Sotto menu, oggetti. Interparazioni, pacchetti... Potenzia! Ripara. Cos'è tutta quant'è sta roba? Abbastato, mappa, file, elenco mosse. Boh, beh, non stiamo a indagare. Ehm... Se io tipo avanzassi, no? Mi... Faresti molto male! Mi faresti molto male! Stavo scherzando! Ecco, facciamo così. Pam! Ok, non sto riuscito a beccarti. Ora, se io andassi qua, mi faresti molto male ancora? No, che non mi faresti male, bravo. Tacco veicolo. E abbiamo aperto pure sta porta. Io non mi sto muovendo... Ok, questo è un braccio. Ciao, braccio. Un braccio poi di che cosa? Artiglio... Scusami, non intendevo questo. Ma... Ma se ho già un altro boss? L'artiglio ha una sua vita. Quindi aspetto che mi... Perché sei qua? Giuro che non ho capito l'altro combo. Vabbè. Fammi cercare, va? Fattano minuti che puoi cambiare formamento per eseguire uno schianto che... Va bene. Ma devo mandare un altro, vabbè. Uh, l'Energon figo! Adesso che... Quindi potrei fare tipo così? No, cambia forma. Aha, ciao! Dove sto andando? Cambi forma, oh. L'ho ucciso. L'ho ucciso, un pacchetto di energia più! Quindi adesso io potrei fare ta, ta... E poi così. E trovo un sacco di roba, fantastico. Adesso andiamo qua, molto akab, e ce ne freghiamo di questi po'... Wow. Oh, gli segni Generations, non aspettavo altro. Sto spettando un po' di cose... E ho fatto un salto enorme. No, fa male. Ok. Saltano. Esatto. Cos'è tutto questo? Sì, sono qui per stoppare te da distruttare la città. Ti vorrei far notare che... Tipo, vedi quel ponte lì che è rotto? Anche quello lì a destra, insomma. No, infatti è quello che ti ho appena chiesto. Ci sei ta dietro tutto questo? Questo è il nostro home ora, Megatron. Vi dovremmo rispettarla. Non importa. Non mi interessa a distruggere la Terra. E quindi... Torniamo alla stessa cosa. Sì, improvements, esatto. Sì, sì, ma... Aspetta, perché sono già... Vabbè, questa qua... Un attacco scatto. Per sfondare gli scuoli. Quindi tipo così. E poi fare... Come si fa la forma vehicle? Cioè, come se arriva allo scatto massimo. Tipo così. Ma... Ah, posso farle il bel gioco? Ah, scattavo. Boom. Ah, fai, giusto. Tutti qui per trasformare. Ah, stai dicendo che dovrei tornare in macchina. Ah, ok. Poi gli attacchi in volo... Ma... Ok, calmo. Aia. Quanto toglie? Non gli ho tolto niente! Che cazzo è Dark Souls? Basta, abbiamo trovato un nuovo Dark Souls. Adesso ti prendi un po' di danni così. No! Stiamo facendo le combate a Dark Souls. Che palle. Sentiamo indietro. Ta ta ta. Entra in macchina. Boom. Attacco macchina. Attacco macchina. Soltisco mentre sei in aria. Cioè, il bello è che stiamo praticamente continuando così all'infinito. Dicchè. Ok. E appunto, vediamo che lui non torna col sottolo di merda. E quindi adesso non torniamo così. Ma! L'ha fatto agli sviluppatori di Dark Souls. L'abbiamo finito. Grado B ancora. Cioè, ragazzi, nel prossimo episodio riusciremo ad arrivare a grado A. Oppure S. Cosa sta succedendo? Una torre! Cos'è? Salta via. Cioè, lui tipo vola via, ma è un carro armato. Quindi, vabbè. Adesso c'è una torre. Sono confuso. Chi sono? Ho un lanciafiamme! Cosa trovo? La spada? Sì, ho i missili. Aspetta, cosa? Cosa, cosa, cosa? Che figata! Sì! Sì! Monetine, monetine! Quante me ne mancano? Mi presunto, è vero? Sì! Cosa mi dai? Dove? Domanda. Come ci arrivo lassù? Così. E con questo attacco qua, triangolo, dovrei aprirlo. Perfetto. Soldi! A che cosa servono i soldi? Ancora non abbiamo capito, ma va bene così. Bene, direi che questo episodio può anche finire qui. E cercando di arrivare qua sopra, ci vediamo al prossimo episodio. Bella! Ciao! Ciao! ! Ciao!